scarseggia il pesce cosa stai facendo trovato trovare il pesce si che c'è il pesce tu non ce l'hai maledetto tra viola in mano cioè no ma che perché ogni volta che parliamo di pesci dove esserci doppi sensi sono messo a pescare per tutto il giorno ragazzi perché dovevamo avere delle provviste che ovviamente non avevamo anche perché siamo su quest'isola maledetta da 800 episodi per quale motivo perché pietro non sapeva guidare una fottuta nave e quindi è imbarcata lì mezza razziata perché abbiamo dovuto costruirci la casa con legno quindi l'unica cosa che possiamo mangiare è pesce e non abbiamo neanche lo luke nit me lo sento stavolta prendo pesco una scarpa ferma tu ferma vai vai grazie gesù quando vuoi pescare una scarpa ma inizia a piovere no 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 è tammazzo madonna tammazzo ti distruggo l'esistenza brutto schifoso laido maledetto ma già che piove devi rompere pure le balle ma basta ma vai via ma l'edizione a parte che non c'era l'acqua di sotto ho rischiato di farmi malissimo ok fatemi fare una intro decente perché tu devi stai fuori che ti lavi un po che fai schifo ok ho pescato in tutto questo un pesce che hai tu che problemi hai come persona spiegami ma stai raga io non ce la posso fare cioè ve lo giuro non posso finire una serie con questo elemento cioè incredibile basta levati la pietra la mano pietro levati la pietro pietra va bene una cosa allora visto che questo è un po l'ultimo episodio che affronteremo il boss finale cioè il leader io ho preparato un pensiero un ricordo un regalo da darti per celebrare questa ultima puntata di naufraghi insieme chissà perché non mi aspetto niente di buono vai dimmi che amico questo è un regalo fatto col cuore vai ma non i bottoni ma che palle si fatto ma basta madonna che odio ciò per i bottoni non avete ma poi nei fatti 64 di nuovo quanto lei mi hai buttato deficiente e quel poco che avevamo solo quello quando i parenti ti regalano le cose schifose devi far finta che ti piacciono vabbè grazie mille dei bottoni pensi stato gentilissimo va bene ragazzi allora facciamo quello che va fatto la il mio c'è un modo per riparare le armi no vero ho smesso di piovere che figata che io al mio altro infiniti sia quasi rotto non mi porto con infiniti non mi tieni cosa sei un meccanico un meccanico io praticamente che un amico con questo oggetto che ho trattato un po di volte fa e mai usato un incudine che figata che mettiamo ai piedi del tuo letto ma perché sei un deficiente che io dormito ma fa freddo stanotte questa roba non solo ripararti il letto non solo ripararti l'arco ma perché ripararmi il letto aspetta ma posso anche metterti dei potenziali in più ok a figo il power and breaking fantastico e poi non abbiamo fatto subito sta roba e non ci voglio di farlo ma tu sei scemo avevamo rischio potevamo batterlo molto prima il drago facciamo così almeno siamo potenziati per il prossimo boss va bene esatto puoi nominare le armi si può nominare le armi ma sei pazzo dammi l'arma che voglio eliminarla subito fantastico e mo ha finito ok ma è una figata incredibile come è chiamato il tuo lore dai dai che quando sparo le frecce mi ricordo che mi hai fatto fuori nello scorso episodio e ogni volta io in augo duri a sparare frecce dammelo conta che stiamo andando nel letter è difficile quello che stiamo andando a fare quindi occhio ora ci siamo sarà difficile trovare questi cavalieri della morte mi attaccano ancora sti cosi no 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 tranquillo tranquillo non più guarda un pollo aia ma mi hai mentito sei uno stupido deficiente allora da dove dobbiamo iniziare per trovare questi cavalieri della morte maledetti deve trovare un'altra cortezza questa qua non spuola in questa e mi sa che anche un po in trafficata questa fortezza quindi via all right ora lasciamo una torcia per ricordarci la strada ok se no ci prendiamo occhio dietro occhio dietro occhio dietro occhio dietro andiamo via andiamo via andiamo via pietro andiamo via cioè non c'era neanche così tanto casino nelle terre di mordor vai 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 ce ne sono troppi che ne sono fermati fermati maledizione è molto più difficile di quanto pensassi ma c'è qualcosa lì a sinistra dove guarda la non lo vedi c'è una c'è una costruzione preferisci pigmen sì 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 la vedi sì sì vai 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 wow trovata credo che sia questa credo ma chi sono sti cavalieri neri spiegami ah sono gli scheletri quelli neri ok ho capito sì allora so cosa sono qua eccole uno eccole uno due c'è sono due quasi ok ci sei l'ammazzo no aspetta 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 che cade poi non ha troppato niente questi dovete fare qualcosa esatto questi hanno troppato una spada vale già non è quella che dice e no e no e quanta probabilità di tropparne una abbastanza bassa uno scheletro uno scheletro dove quando è arrivo poi prima testa presa eccola qua hai trovata l'ho preso l'ho preso l'ho preso l'ho preso l'ho preso grande perfetto tieni è mancato fammi vedere com'è che così capisco è questa qua destra prendila winter skeleton skull ok ci servono tre tre ce ne servono sì ma posso mettermela tipo mettete la mano non serve a niente non serve che bello va bene occhio pigman pigman troppo le palame lava lava cosi aia ma l'edizione mi ha fatto malissimo ok morto dirvi farai spaccato spaccato no niente niente non ha troppato quanto è difficile che troppino sta cosa mamma mia c'era un altro in quanto spetta che sto morendo non avvenna mento occhio non far toccare che se ti toccano ti avvenono è mettono la sanzimento che caga ci sono due vai niente ancora niente che è uno qua e due sopra qua è vero vai occhio che c'è il blaze orca vacca ci spara aspetta attacco il blaze attacco il blaze attacco il blaze attacco anch'io vai occhio se lo vedo è andato no l'ha troppata aspetta provo a buttare giù quelli sopra no orca vacca era del carbone eh ci hai sperato mica perché ha troppato il carbone c'è un altro vieni altro carbone quanto è difficile che troppino quella roba la è molto molto scusate abbastanza fortuna deve calda prima subito ecco un altro un altro vico vieni qua vieni qua vieni qua che bello fondo ci sei andiamo si spaccarlo spaccalo eh vai un altro vado niente maledizia occhio no mio dio ho visto peccato aia che male sono nero e non intendo wismith aiuto che male che male che male che male male ok ma fanno malissimo i cavalieri neri quando ti colpiscono te l'ammazzo porca vacca che fastidio continuano a tropparmi carbone un altro schettro l'ore molto schettro l'ore core ok allora ok poi che sei morto sono morto gesù eccolo dormire dove dei punti come scendo da mio piccone che bisogna di scendere a me piccone vieni thank you eccola qua l'ho recuperata grazie a dio o fino almeno almeno quella che vede qualcuno tu lassù e ce l'ho ce l'ho preso no non trovo ancora niente un altro schettro molto schettro vai vai ammazzalo io arrivo intanto no niente persa ancora o un altro grande grande arrivo 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 porca vacca che va due e manca ora io la mia quindi siamo ok io la mia quindi la tua più uno più uno fa due ce l'abbiamo due occhio c'è due la tengo sempre io davvero davvero che la tengo tieni tieni perfetto che magari ora puoi iniziare a fare qualcosa ma cosa vuoi che un'ora che ammazzo non mi troppa niente che colpa mia aspettano trovati due nel frattempo di provo a vedere se la troppa si la troppata te lo giuro 3 3 3 3 ce ne tre in questo momento vai allora direi che possiamo tornare alla porta abbiamo un 3 che figata bene bene vai 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 tu sei un malato di mente lo sai lore cosa vuoi i grossi problemi ma ti pare che fai un ponte e poi all'ultimo non lo finisci vabbè ho saltato senti la pigrizia incombe servirebbe un'ultima cosa prima di andare a fare il leader la soul sand questa qua che era una termine di prendere quattro blocchi di questa di prendere subito ma ce li ho già mi sa no non ce li ho vai ma tu ti ricordi da dove siamo parca vacca che spavento mi sei entrato in faccia mentre mi sono girato mi sono preso di qua di qua c'è dell'esperienza ho trovato quindi dovrebbe essere di qua non vorrei essere pessimista ma ahia ci siamo persi il fuoco male edizione ci manca solo questo guarda allora aspetta che arrivo io tipo bear gris vedo una torcia di sopra di sopra di sopra allora costruisciti sui piedi occhio che c'è lo smite che sparo se spara mentre siamo in alto perdiamo tutto e potrei effettivamente perdere la mia cresima si chiama gol si chiama gas non smite chi è che chi è lo smite slime cioè al massimo beh perché l'ho chiamato smite vabbè senti adesso adesso in avanti il gas si chiama smite lo chiamo così va bene ok dov'è lo smite allora io ho visto una torcia qua guarda vedi che hai messo le torce qui vai vai avrei trovato la direzione vai zio c'è un gas stock e c'è uno smite bravo bravo altra torcia amico non ho male dove aiuto no non vedo di qua qua sinistra spara spara come qua ahia oh bravo come sei stato forte mica non ci credo siamo riusciti a ritrovare pure la strada perfetto mamma perfetto vai 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 così perfetto no ma perché ma perché maledizione la maledizione dei polli incomberò su di noi a posto metto l'uovo nella cesta e così almeno non corriamo rischi che ciò distruggano l'ho droppato prima col pistone maio mettilo nell'inventario prendo è meglio nel mentale lo metto l'inventario va bene ok ci siamo dormiamo dormiamo basta mio dio quanto abbiamo faticato per le ore qua allora o spada piccone e pane manca l'arco pieni amico 6 è il tuo nuovo arco tempo nuovo al 100 per cento ma è un bell'arco infiniti 1 power 3 and breaking dire che siamo essi bene allora o spada piccone 18 di pane e ho quegli oggetti per evocare il post finale come si evoca allora devi fare ma dove vuoi farlo di cantare anche stavolta gang and style sopra la casa sopra la casa vieni qua allora sei non sono capace partiamo benissimo guardiamo molto bene vai dovrei rifarla la roba che faccio io ma con la soul se non rifare una roba di questo genere con la soul send ok ok a questo punto dovrei mettere le teste del guider dove ho messo le torce ok ok vai quando metterai l'ultima attenzione e mongolo attenzione perché sponerà il video ok subito subito quindi siamo pronti vai aiuto è gigante aiuto quanto è grosso pietro è capito la nostra casa maledetto alle edizioni i miei quadri e lo vedo porca vacca gigante aia sono guiderato sono migliorato occhio non potete non potete colpire non fatti colpire l'ho colpito vai di arco vai di arco non dispona guarda quanto li sto togliendo gli ho tolto metà vita aiuto madonna che male che male che male che male fa malissimo madonna ma è forti è troppo forte aiuto sono morto porca vacca quanto forte sono rispondati in casa è difficilissimo dobbiamo riprendere tutte le cose eh sì porca ma è fortissimo aia che male sono morto anch'io i nostri animali sto vedendo la distruzione dei miei occhi no aia quali no porca vacca aiuto pietro dobbiamo trovare le armi si è recuperato un po' la vita ma perché stanno andando ad ammazzare gli squid ma che problemi ha con gli squid come ho fatto a recuperare la vita non lo so però si è recuperato un bel po' di vita occhio che sta tornando occhio sta distruggendo e sono qua dietro casa sta distruggendo tutto quello che intorno è sparito tutto come tutto quanto è sparito è perché mi ha ucciso sono esplosi i miei oggetti credo quindi l'arco tutta la roba è tutto esploso ma la nostra isola pietro maledizione sta tornando sta tornando occhio dammi arco un arco dammi arco le frecce e come facciamo dobbiamo andare a menarlo a schiaffi ok bravo bravo la madonna vai ok si è incazzato si è incazzato aiuto 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 pietro aiuto aiuto cosa fa malissimo quel colore che ammazza tutti quanti ci ammazza l'ho colpito che male ma basta ma fai priega vai da pietro no vabbè ma è infattibile ti giuro vado ancora sto vedendo dì aiuto occhio pietro aia che male beh non è neanche così forte madonna che botta lì no no ma è fortissimo pietro non lo batteremo mai è difficilissimo è difficilissimo veramente ce la faremo ce la faremo dai non demordere ma poi si recupera se non si recuperasse la vita dico io ma si recupera attaccalo vai becchialo ho trovato delle frecce grandissimo colpisci vai che ce l'ha con gli squid ma non fa domande colpisci dammi in arco è mezza vita è mezza vita bravo che colpo è laggiù è laggiù che corre è più lontano per favore non ti vedo da qua ma come fa sta ammazzando tutti gli scritti vabbè ne approfittiamo per recuperare un attimo però anche lui sta recuperando vita vedi bisogno di un arco con i occhio ai picchialo picchialo tutto quanto distrugge anche la terra vai 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 io lo distrago vai aia che male uccidilo pietro uccidilo pietro fa male oh porca vacca pochissimo dai dai che a poco allora arrivo io ho una pozione aspetta ho una pozione aspetta un secondo vai lo pesco lo pesco aia che male aia che male l'ultimo si l'hai ucciso bravo l'hai ucciso aia sta morendo pietro continua senza di me ma come lore sono morto alla fine ce l'abbiamo fatta torna vittorioso ho un cuore in mezzo lore ma ti ha droppato qualcosa almeno la stella la stella sotto il mare lore ma che stella è una tua amica si ok è questa qua prendila durante noi questa qua durante noi qua è bianca si nether star ecco una star del net tipo la web star solo del net esatto va bene saliamo mamma mia a cosa serve tutta questa roba che ci abbiamo rimesso l'isola per trovarla stai morendo no si si ho respirato con questa quasi cosa possiamo fare dimmi un beacon quello che si mangia nel panino no pure il bacon e cosa è un faro possiamo fare il faro così ci trovano e vengono a salvarci e vengono a salvarci forza facciamo il faro faro io dicevo che serviva spazio nella nostra casa ma non intendevo tutto questo spazio nella nostra casa lore c'è una presa d'aria mamma mia tutti i nostri animali ci ha disintegrato tutto non hai capito quanto disastro ha fatto quel tizio si dai fallo esplodere tanto guarda tanto aia maledetto ma che nervi va bene ragazzi dire che possiamo dormire e domani mattina costruiamo il faro vai sento un po di freschino sai hai aperto le finestre puoi ridere mi hai fatto prendere quel maledetto uovo per tenerlo nell'inventario per non perderlo mentre gli inventari sono a posto e io sono morto quindi come si luogo ce l'avevo io mica scemo l'ho droppato sono morto 26 volte è che ti devo dire tempo era impossibile tenerlo quella faccia esplodere tutto va bene lui quindi l'ultimo obiettivo per poi scappare dall'isola era trovare questo per fare il faro bene fammi vedere come si fa il faro adesso serve del vetro e della dell'ossidiana o tre blocchi qua e il vetro dov'è anche il vetro vieni vieni qua su questo bacon e quindi adesso devo fare una torre e metterlo sopra allora teoricamente si dovrebbe fare una piramide con materiali preziosi ah nel senso che sotto il beacon dobbiamo mettere roba preziosa esatto dobbiamo fare un 3x3 di blocchi di ferro ok ok dammi e abbiamo cuocere o ferro oppure anche oro va bene sto facendo tutti i blocchi facendo tutti i blocchi nove blocchi fammi vedere illustrami ogni potente pietro cosa devo fare ok non ridere delle disgrazie altrui bene e adesso il 3x3 poi il 3x3 di ferro questo oddio per terra 3 blocchi per 3 blocchi ok ora ok al centro metti il beacon vai prendi questo diamante prendi what the fuck hai visto ma che figata incredibile che figo sembra un portale che che roba psichedelica bene perfetto pietro ci troveranno sono sicuro non possono non trovarci così siamo rimasti per sette episodi su quest'isola giorni e giorni senza cibo cioè pescando solo pesce pesce marcio perché pietro non sa cucinare quindi roba brutta abbiamo fatto sette dungeon abbiamo battuto due boss l'ultimo boss ci ha distrutto l'isola quindi l'ultima cosa che ci rimane è essere salvati vi prego aiutateci ciao Grazie a tutti